Bisogna leggere in funzione anche i cambiamenti normativi che ci sono, c'è meno cassa ma perché sono cambiate anche delle norme e aumenta la disoccupazione e questo è un problema molto grave in questa direzione. Noi abbiamo sottoscritto con Confindustria al primo settembre un accordo sulla gestione delle crisi perché denunciavamo una situazione che con queste norme c'era il rischio che in alcuni casi diventava più conveniente, cioè il licenziamento rispetto all'ammortizzatore sociale, riprendere una rilettura dagli strumenti della gestione delle crisi di accompagnamento alla perdita del posto di lavoro non è più rinviabile. Il lavoro e la centralità ma anche gli strumenti per gestire le fasi di difficoltà della crisi vanno rivisti dopo una serie di sperimentazioni che ci fanno dire che così non va bene.